Ci troviamo a Montalbano Ionico in provincia di Matera a 292 metri di altezza sul livello del mare e da qui è possibile ammirare la più grande riserva naturale con i suoi 2.900 ettari presente in Basilicata. E se proviamo a fare un salto nel recente passato, prima ancora dei cambiamenti introdotti dalla riforma fondiaria nella seconda metà del secolo scorso, possiamo apprendere che i vicini comuni di Scanzano Ionico e Policoro un tempo rappresentavano solo una frazione di questa comunità. Montalbano Ionico ha infatti origini antichissime. La storia, la tradizione, la vita straordinaria di personaggi illustri, le bellezze paesaggistiche qui diventano un tutt'uno rendendo questo luogo straordinariamente esclusivo. L'esclusività contraddistingue ad esempio le circa 9.000 unità bibliografiche custodite nel fondo antico di Palazzo Rondinelli, i preziosi conservati nella chiesa madre di Santa Maria dell'Episcopio, tra i quali un dipinto d'epoca barocca di Mattia Preti, ma anche l'archeoparco di Andriace, che con i suoi 10 ettari di estensione è il più grande parco di archeologia sperimentale d'Italia. Il valore scientifico della riserva naturale dei Calanchi, la cui ricchezza fossilifera, nonché la possibilità di ricostruire dettagliatamente la storia paleoclimatica e paleoambientale del nostro pianeta, ha consentito a Montalbano di concorrere a livello internazionale all'ottenimento di prestigiosi riconoscimenti scientifici e di candidare i Calanchi all'inserimento nella lista ufficiale del patrimonio UNESCO. Gli studi scientifici condotti negli ultimi anni da una parte, le azioni messe in campo per la promozione turistica dall'altra, hanno potenziato in maniera significativa anche la rete sociale della comunità. Da quattro anni la promozione dei Calanchi di Montalbano Ionico passa attraverso un evento Luci e suoni dei Calanchi, voluto dall'amministrazione cittadina. Un evento il vostro che ha rafforzato in maniera decisiva anche la rete sociale della comunità. Sì, in effetti è un grande evento voluto da questa amministrazione, proprio per non solo cercare di aggregare sempre di più i nostri cittadini, e non solo nella consapevolezza della valorizzazione di questo eccezionale patrimonio che la nostra comunità ha sempre avuto e che oggi si inizia un pochino più a diffondere, a far capire, a far comprendere anche non solo più ai cittadini della regione Basilicata, ma stiamo andando oltre ormai i confini della nostra regione. L'obiettivo attraverso questo evento è quello, diciamo, il primo già raggiunto, quello di far maturare la consapevolezza a partire dai cittadini montalbanesi e poi di quelli delle comunità limitriche di questo eccezionale evento che rappresenta non solo la valorizzazione di questo museo a cielo aperto, così come è stato definito da tantissimi tecnici e esperti in materia, candidato non solo a ottenere il chiodo d'oro, ma anche attraverso un intervento della regione Basilicata a diventare patrimonio dell'UNESCO. Quindi una grande opportunità non solo per il comune di Montalbano, ma per la regione Basilicata. Infatti l'auspicio è quello che questo evento possa diventare un attrattore culturale della regione Basilicata affinché il lavoro e gli sforzi messi in campo dall'amministrazione siano sempre più supportati. Quindi l'invito che vi faccio è a partecipare a non perdere questa opportunità lunedì 13 agosto nella riserva regionale dei Calanchi. E quella di quest'anno di Lucesone di Calanchi si preannuncia un'edizione ricca di novità. Qual è il programma della serata? Il programma della serata prevede una serie di performance a cominciare dalle performance che saranno realizzate con proiezioni 3D direttamente sulle argille dei Calanchi che rappresenteranno un po' la storia, racconteranno un po' la storia della nostra riserva, dalle sue origini, per continuare con lo spettacolo delle Fontane Danzanti di Viorica che è uno spettacolo unico nel genere, con fontane che raggiungeranno con i loro getti d'acqua anche i 20 metri di altezza, il tutto corredato da suoni e colori. Per continuare con lo spettacolo di giocoleria di José Ramos, che è il giocoliere più veloce d'Italia ed è stato già finalista a Tosichevales, e poi per continuare con il grande spettacolo musicale di Eugenio Bennato che insieme a Taranta Power ci raccoglierà nelle sue sonorità tipicamente meridionali e ci parlerà di meridione attraverso la sua musica perché il nostro evento è un evento che si caratterizza per questa sua peculiarità, voler parlare del sud, voler parlare del meridione. Peraltro la grande novità è rappresentata dal fatto che essendo tra l'altro la nostra riserva proprio a ridosso del centro storico montalbanese ha voluto quest'anno vivere un'intera giornata presso il centro storico di Montalbano. La giornata del 14 che si caratterizzerà anche essa per delle proiezioni, videomapping sulla torre dell'orologio che è il simbolo della città e continuerà, proseguirà con la grande serata la notte delle candele quindi saranno accese delle candele che illumineranno e creeranno dei percorsi molto suggestivi all'interno del nostro centro storico e per concludere ci sarà questo bel concerto degli orchestrali della Cuba quindi sempre musica popolare e musica legata al nostro territorio alle nostre sonorità mediterranee. La cosa importante alla quale tengo molto è l'escursione che aprirà la giornata del 13 l'escursione che si svolgerà a lungo l'antica Appiette di cui parleranno le guide escursionistiche che sono un validissimo supporto nell'attività di promozione della riserva dei Calanchi. Che cosa proponete invece ai turisti? Ai turisti proponiamo una full immersion nel territorio calanchivo loro possono ripercorrere i Calanchi attraverso gli Appiette che sono dei sentieri che i nostri nonni hanno realizzato nei Calanchi per raggiungere i terreni che loro coltivavano. È molto semplice il sentiero da percorrere i sentieri da percorrere sono due Appietto-Omulin e Appietto-Castied Appietto-Castied a differenza che è questo qui a differenza di Appietto-Omulin che non è acciottolato mentre l'altro sentiero è acciottolato con i ciottoli prelevati dal fiume. Quello che cattura subito il turista è senza ombra di dubbio il paesaggio calanchivo. Noi aggiungiamo un valore scientifico a questo spiegando un po' quella che è la morfologia dei Calanchi spiegando quelle che sono le biancane che sono le forme più mature dei Calanchi oppure le forme alla lama di coltello che sono le forme più giovani. Quindi abbiamo portato il nostro valore aggiunto a quello che è il nostro territorio cioè a quello che è appunto il valore scientifico non solo paesaggistico dei Calanchi di Montalbano. Dove è racchiusa la vera ricchezza di questo paesaggio? Sì, quello che osserviamo nel paesaggio calanchivo sono i Calanchi di Montalbano Ionico che rappresentano una riserva naturale speciale istituita con legge regionale nel gennaio del 2011. Questo si è reso necessario per preservare le peculiarità geologiche di quest'area che risalgono nel plestocene quindi a circa due milioni di anni fa plestocene anche inferiore e medio. Questo ambiente rappresenta un mare che poi si è ritirato e che in gergo geologico viene chiamato Fossa Bradani che era un mare molto stretto e allungato che si insinuava fra l'Appennino e la Murgia e l'Avampaese ma le cui testimonianze sono ben conservate e custodite nelle nostre argille tanto da conferire all'area un vero e proprio museo paleontologico a cielo aperto. Io ho conosciuto l'importanza di questo territorio ma anche altri miei colleghi attraverso i nostri studi universitari per cui questo ci ha fatto sì di comprendere l'importanza della valorizzazione di quest'area e di costruire anche un'associazione si chiama Terra dei Calanchi composta proprio all'epoca da giovani geologi, naturalisti e anche archeologi. Il fine dell'associazione è quello di divulgare e far conoscere le peculiarità di quest'area. A questo bisogna continuare nella promozione e nel far conoscere questo territorio perché rappresenta un anello di congiunzione fra il Parco della Murgia Materana e il Parco Nazionale del Pollino quindi al fine di integrare e completare un itinerario turistico che può offrire il sud della Basilicata. La promozione dei Calanchi passa anche attraverso un museo multimediale, così? Sì, qui a Mondalbano è possibile visitare un museo multimediale con una mostra di da scarica molto completa che permette di vedere diversi aspetti della riserva oltre che di poter vedere tutto il patrimonio di fossili ritrovati nella riserva che sono stati classificati dall'Università di Bari in queste teche che forniscono appunto un'informazione puntuale e completa di tutto il patrimonio fossile ritrovato nella riserva. È possibile inoltre esaminare anche gli altri aspetti quelli relativi alla tradizione contadina quelli relativi anche agli aspetti faunistici e della flora presenti nella riserva tutti aspetti molto interessanti che sono il preludio a una bella passeggiata nella riserva dei Calanchi. E voi come circolo di legambiente cercate anche di svolgere una funzione educativa? Sì, come legambiente ovviamente siamo molto impegnati nella sensibilizzazione ci occupiamo di sensibilizzare i più piccoli con delle visite guidate durante la primavera ma soprattutto cerchiamo di far capire ai più grandi soprattutto ai cittadini di Montalbano che questo patrimonio geologico è un patrimonio nelle nostre mani e che tocca a noi prendercene cura e preservarlo per le future generazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.